Profumo di Serie D per il Lanciano con una possibile ammissione nella quarta serie nazionale. Il prossimo Consiglio federale in programma il prossimo 3 di giugno potrebbe infatti confermare quanto proposto dalla Lega Nazionale di Lettanti nelle sue linee guida. Il club rossonero rientra infatti tra le migliori seconde d'eccellenza a livello nazionale. Il format dei campionati prevede 7 promozioni aggiuntive alle 28 vincenti dei gironi regionali più un posto per la Coppa Italia di eccellenza e visto che sarebbero confermate le 36 retrocessioni dalla Serie D ecco che dovranno essere assicurate anche le 36 promozioni dall'eccellenza. Appunto 28 vincenti, 7 seconde, le migliori e una di Coppa. Praticamente certe le 28 capolista, dunque il Castelnuovo, il Lanciano risulta numeri alla mano in base a punti conquistati, le partite giocate e il distacco dalla prima classificata al terzo posto in graduatoria nazionale. Dunque più di una speranza. Il dirigente rossonero Fabio Lombardi. Il futuro ci toccherà, dobbiamo aspettare ancora qualche giorno per vedere cosa verrà fuori dal Consiglio federale del 3 giugno. Se verranno ratificate le proposte della Lega Nazionale di Lettanti sicuramente qualche possibilità di poter disputare un campionato nazionale come quello della Lega Direttanti l'anno prossimo, credo che ci sia. Le percentuali sono legate comunque a un dato di fatto che quello che 4 migliori seconde dei 28 gironi di eccellenza italiani dovrebbero essere ammesse direttamente nel prossimo campionato del CND. Se fosse così noi dovremmo essere la terza migliore d'Italia, quindi problemi non dovrebbero essercene. Però è altrettanto vero che ci sono criteri che quest'anno sui ripescaggi cambieranno rispetto alla passata stagione, perché probabilmente si valuteranno i meriti sportivi legati all'ultimo campionato 2019-2020. Stiamo pensando di farci trovare pronti al momento in cui ci fosse data la possibilità di iscriverci al campionato nazionale di Lettanti. Per i progetti futuri è chiaro che bisogna capire quello che sarà il campionato che andremo a fare l'anno prossimo, ma è altrettanto vero che ci stiamo già organizzando per la prossima stagione. Credo che vada dato atto che oggi questa possibilità ci viene offerta anche grazie al risultato eccezionale che abbiamo raggiunto quest'anno in eccellenza, quindi credo che un applauso vada dato comunque alla squadra e a tutto lo staff tecnico che oggi ci consente di ragionare in questi termini. Quindi un grazie vada dato anche a tutti gli atleti che quest'anno hanno disputato un campionato bellissimo.